scusa ma di solito i trealisti non vanno in moto a divertirsi com'è la storia cazzo minchia si è proprio spaccato secco questo è anche lui extra lungo non viene neanche a morire va bene è venuto di chi però è triste perché bisogna fare un po di strada è piena di schifezze esagerate questo sarebbe bello da portare a casa va bello da mettere occhio che te lo butto lì c'è per i bonsai va bene caduto di testa questo bisogna buttarlo di là ok A presto. A presto. Aspetta però a salire, è tutto di lì? Perché qua un passaggio c'è anche qua eh, però non può essere lì, perché secondo me non vorrei che sia troppo in alto là eh, però ho capito se taglio questa non ce la ricaviamo più. Questa figaro. No. 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 No.